la contessa di carolistria storia tragicomica i caracollando leggiadramente sulla groppa di una puledra maltese in sul cadere di una splendida giornata di ottobre la contessa anna maria di carolistria traversava la foresta di batelmat la contessa contando di arrivare a borgo flores poco dopo il tramonto era partita dal suo castello alle due del pomeriggio la città non era discosta e la brava puledra dopo quattro ore di marcia forzata trottava ancora di lena con la foga baldanzosa dei suoi quattro anni quando ecco al cominciare di un'erta tre figuracce da metter la terzana al vederle sbucano all'improvviso dai grossi tronchi degli alberi alto là grida una voce da toro uno dei tre figuri pianta una grinfa tra le nari della cavalla l'altro appunta una rivoltella al petto della vezzosa cavalcatrice il terzo afferrando la contessa al polpaccetto di una gamba la trae con poco garbo di sella slanciandola a dieci passi dalla strada maestra di là dieci minuti non rimaneva più nella foresta di batelmat che una gentilissima figura di donna nuda una formosa statua di alabastro vivente che i ladri avevano spogliata di ogni superfluità signorile quei mascalzoni avevano spiumata la contessa dei gioielli delle vesti delle lingerie non rispettando che un bel paio di calzettine traforate e due elegantissimi stivaletti armati di speroncini che buoni ladri che ladri discreti non caluniamoli se non presero tutto se fuggirono col grosso del bottino senza darsi la pena di scalzare il più bel modello di caviglie che mai uscisse dalle mani della natura gli è che al momento in cui si accingevano a tagliare i legazzi i tre breganti erano stati sgomentati e posti in fuga dallo scalpito di un cavallo a corrente un cavallo che sopraggiunge di trotto verso il luogo dove fu consumata una aggressione apparisce sempre nell'ombrosa fantasia dell'aggressore sormontato da un carabiniere frattanto la bella contessa era rimasta là ho già detto in qual semplice abbigliamento dite un po signorina che fareste se mai vi capitasse e dio ve ne guardi di cadere in una situazione identica a quella della nostra graziosa eroina nuda come una venere classica nel mezzo di una foresta ai lumi di un tramonto fosforescente mentre un cavallo probabilmente raddoppiato da un cavaliere si avanza a galoppo concitato fuggire via si vede che non avete pratica di foreste non sapete che le foreste sono piene di ginepri e di vepri i quali rimano perfettamente e pungono anche maledettamente le carni girarsi dietro un grand'albero attendere che il cavallo e il cavaliere passino oltre ma poi riflettete carina cioè riflettiamo nel caso della contessa non è in gioco soltanto la pudicizia il giorno va imbrunendo tra un'ora farà notte e una dama avvezza al morbidume dei lini non può adattarsi a dormire in un bosco se un lupo se un orso che orrore ma la contessa era dotata di molto acume pratico misurando in un lampo le eventualità della sua posizione ella non tardò un istante a comprendere che quel cavallo o piuttosto quel cavalcatore che muoveva alla sua volta era forse l'angelo di salvezza inviatole dalla provvidenza innanzitutto pensò ella vediamo di prendere un atteggiamento che ci permetta di presentarci ad un essere della nostra specie senza troppo compromettere la pudicizia il terreno come accade in ogni foresta al finire dell'autunno era sparso di foglie lode all'altissimo non casca foglia che dio non voglia e appena esalata la giaculatoria la contessa adunò rapidamente con le sue braccia candidissime un bel mucchio di quella grazia di dio piovuta dagli alberi vi si tuffò vi si sommerse si rese invisibile hop hop avanti dunque è la prima volta che mi fai di questi scherzi morello hop hop è altresì la prima volta che morello il bel puledro del visconte d'aguilar aspira con le sue ampie narici le esalazioni più o meno balsamiche di una contessa sepolta nelle foglie il visconte balzato di sella prese a carezzare amorosamente l'ombroso animale apostrofandolo coi più graziosi vezzeggiativi è un gentiluomo riflette la contessa sollevando cautamente la testolina per sbirciare attraverso gli arbusti ma il cavaliere già entrato in diffidenza all'adombrarsi di morello udendo stormire le foglie e parendogli che sotto quelle si disegnassero i contorni di una figura umana fece l'atto di scompigliarle con lo scudiscio immaginate se la contessa poté star ferma alto là gridò ella dando un balzo che mise allo scoperto il suo bel volto e le sue spalle di nitido alabastro se voi siete quale ognuno vi giudicherebbe all'aspetto un gentiluomo ed un uomo di cuore non avanzatevi di un passo rispettate e proteggete una dama di alto lignaggio che non poteva voi lo vedete cadere più in basso il visconte immobile come un paracarro guardava e taceva ma poiché la contessa gli ebbe narrati i particolari della disavventura che l'aveva tratta mal partito signora esclamò egli con l'accento vibrato dei suoi impulsi generosi io mi terrei il più sciagurato il più vile dei mascalzoni se un pensiero che non fosse quello di compiere ogni maggior sacrificio per liberarvi dalla vostra falsa posizione potesse formarsi nella mia mente a me pare che la vostra necessità più urgente sia quella di mettervi in una veste meno scucita se non vi ripugna di indossare i miei abiti io ve li offro e al tempo stesso vi do parola che io non sarò mai per volgere gli occhi dal vostro lato fino a quando voi non vi siate completamente abbigliata delle mie spoglie ma voi signore non prendetevi pensiero di me affrettiamoci eccovi il mio soprabito eccovi il mio gilet e i miei calzoni signore è troppo è un'indecenza voi dimenticate di essere in presenza di una signora ma il visconte con la focosa inconsideratezza dei generosi che si sacrificano in un attimo si era spogliato frattanto la contessa dopo essersi abbottonato sulle carni quanto poteva occorrerle di vestimento per scattare meno indecorosamente dalla nuvola di foglie dove si teneva rattrappita drizzandosi della persona e facendo della mano una visiera agli occhi ripigliava con accento mite e supplichevole via poiché volete essere il mio angelo liberatore fate o signore che io non sia costretta ad arrossire di aver accettata la vostra protezione mettetevi là e additava il giociglio dal quale poco di anzi si era levata io non avrò mai coraggio di intavolare una seria conversazione con voi se prima la contessa non ebbe il tempo di compiere la frase che già il visconte si era tuffato fino al collo nel fogliame esclamando eccomi agli ordini vostri voi siete un gentiluomo modello esclamò la dama con l'accento dell'ammirazione più enfatica e in presenza di tanta abnegazione di tanto eroismo quasi mi sento umiliata di avere con tanta precipitazione accettato le vostre profferte signora interruppe il visconte con voce rotta dai brividi la notte è in calza il bosco è freddo il letto punge le lenzuola non sanno di bucato conviene dunque avvisare subito ai mezzi per trarci entrambi di imbarazzo montate sul mio cavallo e partite in meno di un quarto d'ora sarete alle porte di Borgo Flores nelle tasche del mio suprabito che indossate avevo un portafoglio abbastanza colmo di banconote con quel denaro voi potrete appena giunta a Borgo Flores procacciarvi un abbigliamento conveniente al vostro sesso appena ve ne sarete provveduta voi non indugerete a rimandarmi i miei abiti a mezzo di persona fidata dalla sella del mio cavallo pendono due revoltelle una per me l'altra per voi va bene così mi occorrerebbe ancora per ingannare il tempo alla meglio un buon sigaro di Havana nelle taschette del mio soprabito ne troverete di eccellenti favorite mille grazie ora non più indugi salite a cavallo e partite di galoppo cioè aspettate sarei io troppo indiscreto signora se osassi prima che ve ne andiate di informarmi del vostro nome eccovi la mia carta di visita oh la smemorata cercava la mia carta nelle tasche del vostro soprabito ebbene io mi chiamo Anna Maria Contessa di Carolistria il visconte diede un balzo che proiettò sulla contessa una mitragliata di foglie avete pratica della cittadella di Borgo Flores? domandò egli con qualche ansietà ci vado per la prima volta signore ebbene smontate all'albergo della Maga Rossa spero fra un'ora di raggiungervi e di ridere un poco con voi della strana avventura che mi ha procacciato l'onore di conoscere personalmente una signora la cui fama era già pervenuta a me sulle ali della pubblica ammirazione di là a pochi istanti perfettamente abbigliata e più che mai seducente sotto le flessuosità dell'abito virile la contessa galoppava a briglia sciolta verso la cittadella di conoscere